Il H.P. è il primo e in questo momento unico centro di recupero per cavalli maltrattati in Italia. I cavalli vivono in oltre 100 ettari di terreno e sono divisi in gruppi. Le uniche stalle che noi abbiamo sono utilizzate per i cavalli in terapia o sotto osservazione per motivi particolari. Quello che abbiamo tentato di fare è ricreare le condizioni più simili a quelle che il cavallo troverebbe in natura. Ovviamente rispetto allo stato prado c'è un po' di compromesso. Il compromesso è la presenza umana. Operiamo con un team composto oltre che da noi, dai nostri volontari, anche da un responsabile sanitario, un veterinario quindi, o più trainer che si alternano nella gestione e nel recupero comportamentale dei cavalli che di altri professionisti, di altri esperti come ad esempio nel pareggio naturale degli zoccoli o nella gestione e nel trattamento di casi particolari. L'Italian Horse Protection agisce a livello più generale a favore del benessere degli equini dal loro punto di vista. Tutte queste attività comportano degli oneri e dei costi non indifferenti. Abbiamo quindi bisogno di tanto aiuto. Come è possibile aiutarci? Con una quota minima è possibile diventare sostenitori di IHP, così come con una quota davvero bassa si può adottare a distanza uno degli animali da noi salvati. Le altre forme di sostegno sono chiaramente tutto quanto può essere utile a un centro di recupero come il nostro che si occupa di equini. Quindi dalle forniture di fieno alla fornitura di materiale come ad esempio le spazzole per i cavalli medicinali, dalle recensioni elettrificate ai paletti per costruire delle mangiatoie o delle tettoie. operiamo solo tramite l'apporto di volontari che ospitiamo qui e quindi un altro modo per aiutarci è quello di venire a fare del volontariato presso di noi. Noi puntiamo a essere un centro di riferimento importante in Italia riguardo la cultura del vero benessere del cavallo, ecco perché il nostro slogan è siamo al fianco dei cavalli. in Italia riguardo la cultura del vero benessere del vero benessere del vero benessere del